La mancanza di personale è senza dubbio uno dei classici della sanità calabrese. Le figure professionali idonee mancano un po' ovunque, l'hospice di Cassano Ionio non fa eccezione. Nella struttura al momento lavorano solo due medici a tempo pieno, uno dei quali andrà presto in pensione e un terzo part-time a 20 ore settimanali. Una situazione complessa con l'hospice che rischia la chiusura, per questo il sindaco di Cassano Ionio Gianni Papasso ha scritto al commissario straordinario dell'Asp di Cosenza, la regina, chiedendo l'assegnazione di personale. L'ospice di Cassano è un reparto di eccellenza, io ho avuto modo di verificarlo di persona, lì è stato recuperato mio papà, ormai sono circa 12 anni che è stato lì, e ho visto la cura, la dedizione, l'amore, la professionalità con cui quei medici, quegli infermieri, quegli operatori si sono mostrati nei confronti del mio genitore, e così lo fanno nei confronti di tutti. Purtroppo alcuni di quei medici non ci sono più perché sono andati in pensione, altri si sono trasferiti e c'è il fondato rischio che possiamo rimanere senza medici, senza operatori. Quindi ho scritto al commissario dell'Asp di Cosenza per chiedere un intervento immediato, perché quel reparto eccellente non deve perire, non deve chiudere, perché se consentissimo questo sbaglieremo terribilmente tanti, perché soprattutto quegli amati hanno bisogno di cura, di assistenza, hanno bisogno di un abbraccio fraterno, ma da professionisti della medicina. Cassano è città del sollievo, la città del sollievo non può consentire la chiusura dell'ospice, noi ci opporremo con tutte le nostre forze, fino ad oggi stiamo discutendo civilmente e democraticamente, siamo pronti anche ad azioni ancora più concrete.